Si trattava di una persona giovane, in buona salute, che non aveva patologie particolari e che a seguito del traumatismo subisce molte lesività, come ho detto, ma se andiamo a vedere il primo referto autoptico, non vi è una causa particolare, diciamo un'emorragia interna che ci possa far dire subito ecco il trauma determinato. Se vogliamo seguire un criterio civilistico, sono state tolte chance di sopravvivenza al dottor Rossi nel lungo periodo in cui non è stato immediatamente soccorso e il lungo periodo ovviamente sono i 20 minuti in cui sappiamo non essere stato soccorso da nessuno.